Il grande incontro nel quale doveva essere apprestato e presentato il manifesto della nuova componente politica che non è un partito e che non si presenta a nessuna elezione, e cioè Italia Libera, associazione antiglobalista, ha avuto finalmente il suo esito, è stata una giornata davvero esaltante, abbiamo avuto collegamenti con tutto il territorio italiano con personalità di ogni provenienza dal punto di vista universitario, delle professioni, dal punto di vista dell'imprenditoria, dal punto di vista della gente che ha frequentato e riempito le piazze in questi due anni in cui c'è stata la possibilità di mettere all'attenzione del popolo tutto ciò che stava accadendo in termini di pericolo per la democrazia, per effetto della gestione assolutamente dittatoriale proveniente dai governi che si sono succeduti sia con riferimento alla gestione della pandemia, sia con riferimento alla gestione della guerra, sia con riferimento alla gestione delle istituzioni, a cominciare da quelle governative ormai definitivamente, grazie a Dio, crollate. La partecipazione è stata forte, intensa, importante e di altissimo livello, tutti hanno potuto dire la loro, tutti hanno potuto rappresentare le loro opinioni e si è capito che ci sono tutte le premesse perché sotto il manifesto di Italia Libera, di Italia Libera alleanza antiglobalista possono convergere moltissime di quelle sigle che in questi due o tre anni si sono mostrate molto attente ai problemi della nostra vita democratica, della nostra vita istituzionale, soprattutto dei nostri diritti di libertà. L'Assemblea ha voluto che io prendessi la presidenza di questo manifesto, associazione, alleanza antiglobalista che ha la sua intitolazione, la cosa più importante e più bella per la quale ci si può combattere e sulla quale ci si vuole misurare, cioè Italia Libera. Noi vogliamo un paese nel quale governino certi valori, certi principi, a cominciare dal diritto alla vita, alla pace, al lavoro, a tutto ciò che riguarda i rapporti internazionali. Siamo certamente in contrasto con quella che è la situazione attuale dei rapporti dell'Italia con l'Europa. Siamo fermamente convinti che per questa guerra non è stato fatto assolutamente nulla perché potesse prima non iniziare e poi essere fatta cessare. Abbiamo preso in considerazione tutti gli aspetti e ci siamo proposti adesso di stendere il manifesto con tutti i punti programmatici che sono punti di valore per poterli sottoporre poi ad una convention di più ampio respiro alla quale ci auguriamo parteciperanno quante più persone possibile. Quello che mi preme dire è che siamo tutti all'insegna dell'interesse per il bene del popolo italiano. Non abbiamo problemi di poltrone, non abbiamo problemi di presenza istituzionale. La nostra presenza vuole essere nella società dove stanno milioni e milioni di persone che si sono perfettamente rese conto di quello che è successo in questi anni, dello stress al quale è stato esposto il nostro sistema istituzionale che ormai non può più rispondere alle esigenze della vita moderna, dei tempi attuali. C'è tutto da rimettere a posto, il terreno sta franando e bisogna saper intervenire in modo tale che la ricostruzione sia quanto prima possibile attuata e nel migliore modo che il tecnicismo e le altre esigenze possono fare in modo che si vada in una direzione giusta. Vi do questo primo flash di quello che è stato il risultato della nostra Assemblea. Vi posso quindi comunicare ufficialmente che Italia Libera è un manifesto che ormai esiste, che è l'intestazione di una alleanza antiglobalista nella quale governano pace, libertà, vita, giustizia e lavoro. Ed in questa direzione, nel concreto, non con le chiacchiere dei politicanti di nostra conoscenza, andiamo avanti e cominciamo la nostra avventura, che non è un'avventura diciamo così non garantita, è un nuovo garantito perché quello che abbiamo fatto in questi due o tre anni per tutelare le libertà costituzionali che il governo si è messo sistematicamente sotto i piedi, lo abbiamo dimostrato che sappiamo farlo, lo abbiamo fatto e oggi prendiamo un percorso sicuramente diverso dal passato perché è principalmente ricostruttivo. Buona serata a tutti.